partiti in vantaggio si porta Loya allo steccato avendo all'esterno Alabio poi più all'esterno Erin May in seconda linea Elfire lungo la corda Niccolò Secret a largo di tutti Diamante poi ancora Dalet in coda con all'interno nelle retroviglie Sweet Bouquet Loya è deciso leader e a metà gara in testa nei confronti di Alabio per linee interne si mantiene Niccolò Secret seguita più all'interno da Sweet Bouquet che risale più all'esterno Erin May Loya è attaccata a fondo da Alabio dietro i due Niccolò Secret che ora sposta all'esterno è passato Alabio nei confronti di Niccolò Secret e Loya andiamo a rivedere la bella affermazione di Dario Di Tocco in sella al numero uno dello schieramento Alabio che nel finale ha preso il sopravvento e poi si è difeso dai tentativi finali di Niccolò Secret ecco le immagini che la regia ci ripropone vince l'uno di Alabio per il secondo posto sul palo il numero nove di Niccolò Secret stampa di precisione il due di Loya quindi uno nove due e il probabile ufficioso arrivo della quinta corsa di Napoli è tutto per stasera risentirci venerdì con il prossimo convegno di Galoppo grazie a tutti